Ciao a tutti, sono qui per ringraziarvi di vero cuore per tutti gli auguri che mi avete mandato, per tutti i messaggi, per tutti i video veramente mi avete dimostrato di essere importante per voi come voi lo siete per me voglio dirvi grazie, scusatemi se non ho fatto in tempo a rispondere tutti quanti i miei messaggi sono stati veramente, ma veramente, veramente tanti quindi ci vorrebbe un mese per rispondere a tutti quanti e allora mentre sto andando al lavoro ho pensato di regalarvi questo video grazie, grazie per le belle parole, per le belle canzoni e per le belle emozioni che mi avete regalato in questa giornata stupenda vi dico grazie, vi abbraccerei tutti quanti ma siete veramente in tanti quindi so che non ci sarebbe il tempo, non basterebbe un mese per poterlo fare perché siete veramente in tanti grazie di esistere in tutte le mie giornate, in tutte le mie giornate belle le mie giornate un po' no, perché esistono anche per me le giornate no però grazie a voi diventano sempre sì, grazie al vostro complimento grazie a una vostra dedica, grazie ai vostri messaggi che dire ragazzi, io vivo di voi Daniele De Martino voi dovete sapere che vive di voi, vive del suo pubblico fondamentalmente dopo la mia famiglia o dopo la mia famiglia ci siete voi a rendermi felice e lo sono ancora di più quando grazie a un tatuaggio nella vostra pelle grazie alle vostre parole, grazie a quando mi scrivete che io per voi sono stato il vostro punto di riferimento grazie a una mia canzone sono la vostra forza, il vostro incoraggiamento grazie perché vi innamorate con le mie canzoni mi dispiace quando soffrite ma soffrite anche ogni storia, ogni argomento cerco sempre di raccontare la verità, tutto quello che ci succede giornalmente ragazzi, grazie di esistere io vado al lavoro, vi amo immensamente ciao, benvenuti a partire con una mia canzone e ridete anche con una mia canzone io sono il cantante del popolino definisco il cantante del popolino e il cantante di tutti io sono il cantante di tutti e nelle mie storie racconto tutto di tutti